Eventi storici, il giorno in cui Omar Sibori realizzò sei gol in un solo incontro. Era il 10 giugno 1961, quel giorno si giocava Juventus Inter. In realtà la partita era andata in scena qualche mese prima e si era conclusa sullo 0-0. Quel giorno c'erano tanti spettatori a bordo campo, che interferivano con il gioco. L'Inter chiedeva il 2-0 a tavolino, ma la federazione decise di far ridisputare l'incontro. I nerazzurri inscenarono una protesta mandando in campo i giocatori della primavera. Nella Juventus giocava Omar Sibori che aveva già segnato 19 gol e distava 8 lunghezze da Brighenti, l'attuale capocannoniere. L'argentino si impegnò molto riuscendo però a segnare solo 6 gol nel 9-1 finale. Non vinse la classifica, ma il suo record esiste ancora oggi. Supportate il nostro lavoro con un mi piace e l'iscrizione al canale. Grazie.